Siamo in Parisia, dovevo stare qua tre giorni, sono tornato a casa, ho fatto una nascente, figa bello. Oggi come ormai sono abituato a fare, sono quello piccolo e inesperto che porta lo zaino pesante. Che l'avvicinamento è stato ostico, però secondo me l'hotel merita dai, e anche la parete è sembrere. La richiesta per il weekend era avvicinamento tranquillo, via Plezier, sono fuori forma, per me già il sentiero è stato un 7B+, quindi siamo sulla strada giusta, speriamo di sopravvivere. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Un jumpy. Un jumpy. Controluce. All'interno. Un bel palido. Grazie a tutti.